ci si sente di rappresentare non paga ormai da un anno permesso non mi fate lei non restituisce da un anno i soldi previsti cosa ci fa? fatemi arrivare in giunta si sente già fuori dal movimento senatore visto che lei rischia l'espulsione per non avere e perché non le ridà questi soldi? sono accantonati non si fida lei del patrocito legale di casaleggio funziona ma lo lascia il movimento 5 stelle o resta dentro? non lo lascio la devono cacciare tutte queste cause che c'ha con cui deve cacciare continuerà a votare la fiducia continuere a votare la fiducia al governo ma io so nel movimento ma non scherziamo con queste cose va via ma che è scontato quella caccia? ma che è scontato quella caccia? ho scontato senta sull'autorizzazione a Salvini voterà come il movimento? o quel gruppo risco? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti